Il Natale tra shopping, concerti, animazione e spettacoli itineranti. È il Senso di Atmosfere, la tre giorni promossa da Ascom e Confesercenti in collaborazione con la Bazzarra. Tre giorni di eventi con il patrocinio del Comune e del Consiglio regionale della Campania e il sostegno della Banca di Credito Popolare. Si parte questa sera alle 20.30 con il concerto di Natale alla Chiesa della Madonna delle Grazie con l'orchestra I Virtuosi Napoletani. Giulio Esposito, Ascom e Confesercenti promuovono atmosfere, una tre giorni di eventi natalizi pensati per questa città. Abbiamo pensato di organizzare una tre giorni per il 20, il 21 e il 22 di dicembre. Una tre giorni chiaramente che ha il sostegno delle istituzioni, Regione Campania, Banca di Credito Popolare e il Comune che ci ha favorito in tutte le documentazioni dovute, fatte in fretta e furia perché i tempi stringono e ci siamo adoperati per fare le cose più in regola possibile. Stasera ci sarà un concerto ma anche tante altre iniziative nei prossimi giorni. Sì, il concerto di stasera nella Madonna delle Grazie, anzi prego la cittadinanza che volesse intervenire vista la difficoltà di informazione, quanti volessero intervenire alle ore 20 questa sera nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie. I suoi auguri alla cittadinanza? I miei auguri alla cittadinanza, voglio fare anche un appello alla cittadinanza. Pensate che i negozi del vostro paese sono le luci della città, spegnendo le luci dei negozi si spegne la città. Quindi comprate nel negozio sotto casa, fate in modo di non comprare online ma spendete nei vostri negozi sotto casa.